Buona domenica, nuovo appuntamento con il TV giornale di Telestense di questo 6 agosto. Come sempre tante le notizie che spazieranno dall'attualità alla sanità, agli appuntamenti allo sport. Ma cominciamo subito dalla cronaca, perché i poliziotti del reparto Prevenzione del Crimine di Bologna, della Questura di Ferrara e della Polizia Ferroviaria di Ferrara hanno svolto un servizio congiunto di controllo straordinario della stazione ferroviaria e delle immediate adiacenze. Nell'ambito della pianificazione generale di controllo del territorio è stata disposta infatti una intensificazione dei servizi presso lo scalo ferroviario del capoluogo, che in questo periodo dell'anno è particolarmente interessato dall'arrivo di un sensibile numero di turisti in visita nella nostra città. In particolare la Polizia Ferroviaria di Ferrara ha proceduto al controllo degli ambienti interni della stazione, identificando gli utenti del servizio ferroviario all'interno dello scalo e lungo le banchine. Le donne e gli uomini della Questura del reparto Prevenzione del Crimine hanno concentrato le rispettive attività all'esterno della stazione e lungo le aree immediatamente adiacenti, anche attraverso l'effettuazione di posti di controllo per tracciare il flusso di auto in transito da e verso la stazione. Nell'ambito del servizio sono state controllate 69 persone dalla Polizia Ferroviaria e 37 dalla Questura del reparto Prevenzione del Crimine, che hanno altresì controllato 16 veicoli in 4 posti di controllo. Adesso invece torniamo ad occuparci di Cona, perché è stata aperta un'inchiesta della Procura di Ferrara per i decessi di due donne, operate lo scorso 27 luglio all'ospedale Sant'Anna per un intervento agli occhi. Sentiamo. La Procura di Ferrara ha aperto un'indagine per la morte di due donne a distanza di poche ore giovedì 27 luglio all'ospedale Sant'Anna di Ferrara a Cona. Le due donne, una settantenne di Castel Bolognese e una ottantunenne di Forlì, si erano sottoposte ad interventi agli occhi nella clinica chirurgica oculistica, ma al risveglio per complicazioni, ora in corso di accertamento, sono decedute. Per entrambe le operazioni si era resa necessaria l'anestesia totale, ma al risveglio una paziente, dopo aver accusato un malore, è subito deceduta, mentre l'altra donna, che sembra aver accusato i medesimi sintomi, è stata subito rianimata, ma è deceduta durante la notte. Il PM Andrea Maggioni ora ha aperto un fascicolo di indagine per duplice omicidio colposo, ma al momento non sarebbero stati iscritti degli indagati. E rimaniamo sulla sanità, si chiamano centri di assistenza urgenza, in gergo CAU, e rappresentano la naturale evoluzione degli ambulatori a bassa complessità attivati a fine 2022. Sono stati introdotti nella sanità regionale per ridurre i tempi di attesa di chi deve risolvere con urgenza problemi di salute di minore gravità, decongestionando il pronto soccorso per chi ha problemi più gravi, tali da poter richiedere il ricovero in ospedale. In questi mesi, mentre la loro sperimentazione sta dando risultati apprezzabili e in fase di valutazione, si stanno predisponendo gli interventi per farli funzionare a pieno regime. Come ha detto ai microfoni telestense il dottor Franco Romagnoni, direttore del Dipartimento di Cure Primarie dell'Asla di Ferrara. I centri, lo ricordiamo, sono attivi nelle case della salute di Ferrara, di Comacchio e di Copparo. Vediamo. Per quanto riguarda il centro di assistenza urgenza, siamo già a regime come servizio in sé? C'è un lavoro in corso molto importante. Il 17 luglio, se non erro, è uscita la DGR che ci dà le regole regionali a cui arrivare. Per molti aspetti noi siamo già perfettamente a posto dal punto di vista strutturale, quello che è previsto dalla legge regionale è quello che abbiamo in tutti e tre i centri. Dal punto di vista dell'equip, ugualmente, dal punto di vista della strumentazione in linea di massima, sì, ci sono naturalmente dei miglioramenti in corso per cercare di arrivare ad essere perfettamente coerenti con la norma. È chiaro che noi, avendo un servizio già avviato, partiamo da un punto, ma non vogliamo stare fermi lì, quindi dobbiamo arrivare ad essere perfettamente in linea con quello che dice la legge regionale. Faccio un esempio. Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto le linee guida per la formazione del personale medico che è nei centri e già ci siamo attivati per realizzare una formazione che sia per 30 ore obbligatorie una sorta di tirocinio pratico nei pronto soccorso, per altre 30 ore circa una serie di moduli formativi che verranno fatti dai colleghi a seconda del loro livello di competenze, del curriculum personale, per avere alla fine un medico dei centri che sia assolutamente equivalente dal punto di vista della preparazione. Anche gli infermieri sono selezionati sulla base delle loro competenze, molti vengono dall'urgenza, quindi c'è la necessità di costruire chiaramente un'equipe infermieristica e medica che possa essere assolutamente in linea con quello che ci chiede la legge regionale, che non chiede naturalmente di replicare un pronto soccorso, chiede di creare delle competenze locali che siano in grado di intercettare i problemi a bassa complessità. E adesso invece andiamo sulla costa, giudizio positivo da parte di Lega Ambiente sulle acque costiere dell'Emilia-Romagna. Su 11 punti campionati solo uno è apparso oltre i limiti di legge, si tratta di quello della foce del torrente Marano nel comune di Riccione. E' quanto emerge dai risultati del monitoraggio sulle acque delle coste Emiliano-Romagnole condotto appunto da Goletta Verde. I campionamenti, spiega una nota della situazione ambientalista, sono stati effettuati dai volontari e dalle volontarie di Lega Ambiente tra il 24 e il 26 luglio. I punti esaminati sono 11, di cui 8 sono presso le foci di Fiume e Canali e 3 a mare. Nel dettaglio i rilievi microbiologici affidati a laboratori specializzati hanno fatto registrare tutti i punti entro i limiti di legge, compreso quello locale di Porto Garibaldi, ad eccezione solo della foce del torrente Marano a Riccione, che ha ricevuto il giudizio di fortemente inquinato. Adesso invece parliamo di rigenerazione urbana, torniamo in città perché a Ferrara sono stati aggiudicati 18 appalti per lavori di 14 milioni di euro che inizieranno dal prossimo autunno. Sentiamo. Il recupero di 10 vecchi edifici scolastici nelle frazioni di centri civici dello storico Palazione di Marrara, la riqualificazione di due accessi cittadini. Sono stati aggiudicati tutti i complessivi 18 appalti del piano di rigenerazione urbana per circa 14 milioni di euro, tenendo conto dei ribassi complessivi di fondi PNRR. Concluse le procedure di gara, i cantieri a Ferrara partiranno con le fasi preliminari già da settembre. È stato realizzato un grande lavoro, tutti gli appalti sono andati a buon fine, con contratti firmati in attesa della ridefinizione del PNRR nazionale e delle nuove modalità di copertura finanziaria, ha sottolineato il sindaco Alan Fabri. La pubblicazione di tutti gli atti farà seguito al completo ripristino dell'albo pretorio dopo l'attacco hacker. Noi ci siamo e stiamo facendo la nostra parte, vincendo difficoltà notevoli, come l'impatto dell'attacco della gang di cybercriminali che ha colpito il comune, ha sottolineato il sindaco, che ha ringraziato il personale, i tecnici e la cabina di regia PNRR per il lavoro svolto in campo. Il piano di rigenerazione urbana è costruito a partire dalle frazioni e per le frazioni evidenza il vice sindaco Nicola Lodi e consentirà di restituire alle comunità e di edifici abbandonati, dismessi solo parzialmente utilizzati e nuove strutture a disposizione del pubblico per nuovi servizi con destinazioni polifunzionali per la socialità, per la vita delle frazioni, ha sottolineato Lodi. Nel dettaglio le aggiudicazioni dei lavori riguardano le ex scuole di Chiesuol del Fosso, di Ravalle, di Spinazzino, di Monestirolo, di Borgo Punta di Quartesana, Sabbioni di Pescara, Codrea, Gaibana e Porporana. In elenco anche i lavori per il riuso e la rifunzionalizzazione del magazzino e dell'alloggio popolare dell'ex centro civico di Marrara, del centro sportivo La Bocciofila di San Bortolomeo, del centro civico di Ponte Lago Scuro. Anche gli accessi est e nord-ovest della città saranno riqualificati, quest'ultimo in forma integrata alla nuova autostazione di via del lavoro, con i lavori dell'ex Casalea, il laboratorio esplorazione ambientale di Ponte Lago Scuro e del centro civico di Ravalle. Torniamo ad occuparci delle alluvioni di maggio. Quattro giovani imprenditori di Fontanelice, comune appartenente all'area metropolitana di Bologna, fortemente colpito dall'alluvione attraverso un breve video divenuto virale sui social, chiedono la riapertura della strada provinciale numero 33, la via dell'Arenana che unisce Bologna-Ravenna ed è ancora in attesa degli interventi di messa in sicurezza delle strade della zona. Per questo chiedono di poter incidere sulle istituzioni per riuscire a rimettere in sesto le loro case e le loro attività travolte appunto dall'alluvione. Vediamo il video. Buonasera a tutti, ci troviamo a Fontanelice, più precisamente sulla strada provinciale 33, detta via dell'Arenana, che collega le importanti province di Bologna e di Ravenna attraverso l'Appenino Toscuro-Magnolo. Mi presento, io sono Stefano Colli, sono il titolare insieme alla mia famiglia dell'azienda agricola e agriturismo La Taverna. Salve, io sono Tonnelli Lara, titolare del Chiosco 31, sulla strada della Casolana 33, provinciale. Salve, sono Ronchini Marco, titolare dell'azienda agricola Baia Volpe. Buonasera a tutti, io sono Roberto Ronchini, titolare dell'azienda agricola La Valle degli Struzchi, sempre in SP 33. Purtroppo a tre mesi dalle forti piogge e successive alluvioni che hanno colpito l'Appennino e che hanno causato centinaia di enormi frane su tutto il nostro territorio, la situazione è ancora questa. Purtroppo quello che ci dicono le istituzioni è che non ci sono i fondi per poter sistemare queste strade, non ci sono i progetti, ma noi quello che chiediamo, chiediamo il vostro aiuto. Perché? Perché questa importantissima strada venga riaperta o che almeno ci venga dato il permesso a noi che viviamo su queste terre, su queste strade, di poter pulire la strada e poterla riaprire. Questo perché ci sono tantissime famiglie e decine di aziende che tutti i giorni mettono a rischio la propria incolumità e sicurezza passando attraverso la strada comunale detta strappo di pantani o salita del cane, che è una strada davvero pericolosissima, strettissima e con delle fortissime pendenze. Non siamo qui a chiedere soldi, ripeto, ma vogliamo solo che la nostra strada venga riaperta per la sicurezza e l'incolumità di tutti. Purtroppo l'inverno è alle porte e se quello che ci viene prospettato è l'evacuazione delle nostre famiglie e delle nostre aziende, non possiamo restare fermi. Siamo solo una piccola parte delle persone che vivono e che lavorano su questa importante strada, in questa importante arteria. Quello che chiediamo a tutti voi è di darci una mano e di darci un aiuto concreto, ma molto semplice. Chiediamo solo di condividere questo video per far sì che riusciamo a far sentire la nostra voce, con tutte le istituzioni, con tutte le persone che hanno poteri per poter fare qualcosa. E quindi ci mettiamo tutti quanti una mano sul cuore e vi chiediamo aiuto. Aiutateci affinché questa strada finalmente venga riaperta. Grazie mille. E dunque un video che ha conquistato tutti e ha ottenuto la risposta anche del Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il grido d'allarme dei cittadini di Fontanellice non ci lascia indifferenti. L'opera è in cima alle priorità e insieme alla città metropolitana di Bologna e alla struttura commissariale del generale Figliuolo siamo al lavoro per ripristinarla il più velocemente possibile. Aprendo il cantiere non appena le risorse stanziate saranno nella disponibilità dei territori. La Regione è al fianco di chi è stato colpito oggi, domani e sempre. Questa appunto la risposta del Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Adesso invece ci spostiamo a Comacchio per parlare delle saline e del ponte crollato nel 2021 non ancora ripristinato. La fine dei lavori, secondo i cartelli posti dall'impresa davanti al cantiere dovevano concludersi il 17 luglio ma invece il ponte crollato è ancora lontano dall'essere completato. A spiegarcelo è Germano Carli, esponente della lista Civicamente Comacchio che abbiamo contattato e tra l'altro Carli aggiunge che le saline rimangono totalmente inaccessibili lasciando abitanti e turisti amareggiati e delusi. Sentiamo. Germano Carli, esponente della lista Civicamente Comacchio. Voi in questi giorni avete espresso delle forti perplessità per quanto riguarda la questione delle saline di Comacchio e del ponte crollato, una situazione che è ancora ferma da diverso tempo. Che cos'è che lamentate? Principalmente lamentiamo la mancata ricostruzione in tempi sufficientemente rapidi del ponte che è l'unico accesso alla salina. Quando crollò il ponte il 30 agosto del 2021 nel Consiglio Comunale successivo, tra l'altro eravamo ancora in epoca Covid per cui fu fatto in remoto, l'assessore Carli sottolineò il fatto che la ricostruzione del ponte avrebbe avuto la massima urgenza, ripetendo tre volte massima urgenza, massima urgenza. Purtroppo però le cose non sono andate così. Nel febbraio noi civicamente siamo tornati a vedere come stavano procedendo i lavori e purtroppo abbiamo dovuto denunciare il fatto che i lavori erano sostanzialmente se non fermi quasi fermi. La vice sindaca ci accusò di fare della inutile propaganda in quanto nel giro di pochi giorni la cesta alla salina sia dei mezzi che delle persone avrebbe potuto ripartire, quindi ripartire la produzione del sale. Noi siamo tornati la settimana scorsa per vedere a che punto fossero i lavori e abbiamo notato, abbiamo visto che in realtà i lavori non stanno procedendo, sono ancora fermi e quindi la stagione turistica per quanto riguarda l'accesso delle saline è sostanzialmente saltata. Non soltanto la stagione turistica ma anche la produzione del sale. Questo tra l'altro che rischia di diventare un abbandono delle saline può creare dei problemi anche per quanto riguarda il futuro, quindi ripristinare la produzione del sale potrebbe venire a costare veramente tanto. L'azienda che ha affaltato i lavori ha messo un cartello nel quale annunciava che la fine dei lavori sarebbero stati effettuati per il 17 luglio 2023, praticamente qualche giorno fa. In realtà dalle immagini che appunto abbiamo fatto si vede chiaramente che i lavori sono molto, molto, molto lontani dall'essere terminati e questo ci lascia molto perplessi. Secondo voi quali potrebbero essere i motivi di questo procedere a rilento dei lavori? Ecco, purtroppo questo non lo sappiamo. Non abbiamo idea dei veri motivi per i quali i lavori non stanno procedendo. Quello che però capiamo è che questa amministrazione non è in grado di capire quali sono le reali necessità per quanto riguarda il turismo sui lini di Comacchio. Che non può essere ridotto a turismo balneare, ma Comacchio ha delle potenzialità enormi per essere sviluppato, un tipo di turismo naturalistico con le valli eccetera eccetera, che tra le altre cose permetterebbe in maniera importante di allungare la stagione che è quello che tutti quanti ci aspettiamo. Cioè un allungamento della stagione che possa quindi non essere concentrato nei mesi di luglio-agosto, ma poter partire molto prima e terminare molto dopo grazie appunto a questo tipo di turismo naturalistico, cicloturismo eccetera. E adesso invece torniamo in città perché ha preso il via al Parco Coletta la rassegna musicale con 16 appuntamenti Giardino per Tutti ai piedi del Grattacielo. In particolare questa sera, domenica 6 agosto, grande attesa per il concerto di Mirko Casadei della sua Popular Folk Orchestra. La formazione è guidata da Mirko, figlio ovviamente del grande Raul Casadei suonerà live ai piedi del Grattacielo a partire dalle ore 21 e l'ingresso come per tutti gli eventi di Giardino è assolutamente gratuito. Ora invece parliamo di SPAL, è ufficiale il campionato per i bianco-azzurri inizierà domenica 3 settembre ed è arrivata dal Consiglio federale l'ufficialità sull'inizio del campionato di Serie C nel primo weekend appunto del prossimo mese, una settimana dopo quella fissata in precedenza per consentire di conoscere le sentenze del Consiglio di Stato. Lunedì saranno stilati i calendari e nel frattempo la SPAL sta disputando in questi giorni due amichevoli con formazioni militanti in Serie D. Noi ora andiamo a conoscere uno dei nuovi arrivati a Ferrara, ovvero il portiere Mattia Del Favero. Sono veramente molto felice di essere qua, credo che sia una piazza importantissima e devo ringraziare in primis il direttore, il presidente, la società, lo staff e tutti quelli che mi hanno voluto qua perché per me è una grandissima opportunità e voglio sfruttarla al meglio e niente, non vedo l'ora di cominciare, di incominciare in questo bellissimo stadio che vedo qua e poi in una situazione del genere, in un centro sportivo dove si può lavorare bene, veramente tanto bene e quindi sicuramente è un ottimo punto di partenza, siamo ancora all'inizio, alla fine della stagione è iniziata veramente da poco tempo quindi ci saranno queste domichevoli come ce ne saranno altre prima dell'inizio del campionato che speriamo sia il prima possibile e sicuramente partita dopo partita ci sarà uno sviluppo da parte di tutti, come l'intesa con i compagni ma anche proprio il gioco che ci chiede il mister, quindi sicuramente sarà una crescita continua, è il nostro obiettivo e sicuramente ci sono tutte le carte in regola per far sì che sia così. Credo che sicuramente il primo impatto sia stato molto positivo, quello che mi è stato detto prima di arrivare qua del mister Portieri, del gruppo di lavoro Portieri che è molto importante tenere come una cosa unita e questo è quello che è stato il primo impatto, sono molto contento di poter lavorare con entrambi, sono due ragazzi veramente eccezionali e sicuramente con Enrico sotto il lato tecnico potrà insegnarmi tanto, vista la sua grande esperienza, le tante partite che ha alle spalle ma sicuramente anche con Marco possiamo fare un bel lavoro, sicuramente la cosa importante in questo è stato bravo il direttore a creare un bel ambiente che si è visto subito, quindi poter lavorare tutti e tre insieme darà sicuramente un vantaggio alla squadra. Posso dire che per me l'anno scorso è stato un po' un anno zero, un punto di partenza e ho voluto che fosse così fortemente perché per me è stato complicato, ci sono stati tanti anni difficili e credo fortemente che la passata stagione mi abbia dato un'idea mia molto forte interna, sono sicuro che da lì sono riuscito a ripartire quindi voglio lasciarmi alle spalle tutto quello che è stato il passato e ricominciare quest'anno con la stessa consapevolezza che ho avuto l'anno scorso in una nuova grande piazza ambiziosa e ripartendo dalle mie certezze, quelle che ho ritrovato l'anno scorso e che voglio essere qua quest'anno a portare ancora di più avanti. E continueremo a conoscere i nuovi protagonisti della Spalla nelle prossime edizioni del TV giornale, intanto vi ricordo come sempre gli aggiornamenti su telestense.it e sui nostri canali social. Come sempre grazie dunque per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento questa sera alle 19.30. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.